E' durata poche ore la latitanza del marocchino che ha ferito gravemente all'addome un connazionale l'altra notte nel Pesarese. Le reali motivazioni che hanno fatto scattare la scintilla da cui poi è partito il violento litigio tra i due conoscenti di lunga data, due cittadini appunto marocchini residenti uno a Mondaino e l'altro a Gradara, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre in piazza Marconi, di Padiglione, di Tavuglia, di fronte al bar, le conoscono soltanto loro e dovranno però chiarirle agli inquirenti. Probabilmente anche a causa dell'abbondante alcol ingerito da entrambi la discussione è rapidamente degenerata e in un impeto di ira il 33enne Gradarese ha infranto un bicchiere che aveva in mano e con il coccio pugnalato il coetaneo all'addome lasciandolo sanguinante sul selciato per poi darsi alla fuga. Fortunatamente per lui un terzo connazionale però ha attivato la macchina dei soccorsi prima che fosse troppo tardi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Pesaro assieme al personale del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale San Salvatore in codice rosso e dove il giovane è stato operato d'urgenza per fermare l'emoragia. Nel frattempo i carabinieri della stazione di Tavuglia dopo aver ricostruito l'accaduto si sono lanciati in caccia dell'aggressore essendo risaliti alla sua identità nonostante però la difficoltà a trovare testimoni oculari. Questo lasso di tempo comunque ha dato al fuggitivo un breve vantaggio quel tanto che gli è bastato per passare da casa e raccogliere gli effetti personali e svignarsela prima dell'arrivo dei militari nell'appartamento. Ma la latitanza dell'aggressore è durata poco meno di qualche ora. Gli uomini della sezione operativa lo hanno rintracciato e prelevato a casa di un connazionale nella vicina Romagna. Per lui la procura della Repubblica di Pesaro ha ipotizzato il reato di lesioni aggravate e non tentato omicidio essendo le condizioni del ricoverato migliorate e non essendo più in pericolo di vita ragion per cui è stato rilasciato dopo gli accertamenti e denunciato in stato di libertà in attesa del processo. Il taglio all'addome al connazionale pur profondo non ha infatti per fortuna lesionato alcun organo vitale. Una differenza di qualche centimetro sul corpo della vittima ma enorme in termini giuridici che ha cambiato il destino di due persone. Uno dormirà in ospedale in prognosi riservata ma vivrà l'altra nel suo letto anziché in una cella almeno per il momento.